mi piace questa idea di incontrare gli attori proprio nell'imminenza dell'uscita del film quindi controllare tutta la fibrillazione l'ansia di questi attori regista ovviamente no cioè non stanno nella pelle non solo hanno la pizza una volta avevano la pizza stanno consegnando non la pizza con la pomodoro le pizza del film non è più una pizza è un file è una valigetta con i codici un po meno romantico di un tempo però che se ne frega allora amici oggi pomeriggio alle 3 tipo dipende dal cinema dal cinema un po prima alcuni anche esce croce e delizia il nuovo film di simone godano grazie e mi raccomando l'accento preso abbiamo già fuori onda fatto discorsi su questo cognome quindi non li faremo qua in onda ecco è un esortativo insomma esatto un bellissimo una speranza è un bellissimo esortativo bellissimo e poi avete già sentito riconosciuto la voce di fabrizio ventivoglio uno dei più grandi attori italiani maestro maestro e poi lei bella brava nostra ma posso dire una delle delle due un'attrice più bella di d'italia brava più bella io la l'altro giorno mi sono visto tutto il programma della grupper per colpa tua ma è possibile è possibile ben trovati ciao devo dire che forse te l'ho già detto una volta la mia fidanzata non è mai gelosa ma quando dice oggi hai la trinca erano tanti anni fa ti ricordo oggi hai la trinca mi fa e tamburella tamburella il microfono abbiamo un microfono la trinca che non ti aspetta hai un fan club e vengo apposta in questo caso in croce edilizia abbiamo papà e figlia giusto e tua figlia nel film manca l'altra famiglia chi ci racconta chi ci racconta il regista chi ci racconta si croce edilizia è la storia di due uomini bellissimi alessandro gasman alessandro gasman ventivoglio come gode come godano come godano al bellissimo tutti gli attori quando sento la parola bellissimo esortativo certo insomma sarà mica brutto ventivoglio assolutamente che si scoprono innamorati l'uno dell'altro questa è una storia morbosa però questi due uomini hanno una famiglia hanno dei figli hanno anche dei nipoti quindi è complicata la questione sono dei nonni per cui capita devono annunciare ai rispettivi figli non solo di essere innamorati ma anche che si sposeranno e questo chiaramente senti il sorriso che ha ventivoglio fa parte ancora del film o non capisco ventivoglio nel film fa questo Tony che è un infatti si chiama Tony come me è un po' parte il titolo del film nasce da lui da Fabrizio e Tony questa croce edilizia nel senso è un po' gli aspetti della vita no? sì ma scusa loro due un po' di bio pregressa sono sempre stati eterosessuali prima della scoperta di questo amore? allora Fabrizio ha avuto dei trascorsi Fabrizio attore Fabrizio o Tony Tony Castelvecchio che è un mercante d'arte ha avuto dei trascorsi anche abbastanza famosi pare che ha avuto un liaison con David Bowie viene citata dalla figlia addirittura è vero? e Mick Jagger che peraltro tra di loro avevano si è trovato in questa ma è vero o no? cioè nel film è raccontato anche Mick Jagger? no raccontando dei suoi trascorsi dicono che ogni tanto lui aveva il suo periodo Andy Warhol il suo periodo Mick Jagger così comunque ha avuto una vita frizzante non si è fatto mancare niente non si è fatto mancare niente più mogli più figlie da mogli differenti Giasmine è anche fiero scusa di questo suo dettaglio molto no volevo dirti proprio questo che in realtà io gioco nel film come sconvolta questa notizia ma la vita va magari ma che figata a parco David Bowie devo chiedere a mia figlia se un giorno mi presentassi così mentre Alessandro è solo la scoperta di questo uomo che è la scoperta della vita si lascia sorprendere dalla vita a un certo punto come resistere a Fabrizio Bentivoglio cioè che sei il suo pigmalione poi lo scopri anche questa cosa lui no viene raccontato loro si sono non si vede questo si sono incontrati in un momento di fragilità si sono incontrati in ospedale avevano un esame c'è ancora dei movimenti strani se lo voglio dirtelo Fabrizio tu fai dei movimenti cioè sei più delicato dell'ultima volta che ci siamo incontrati ti giuro sei ancora nella parte no no questo no abbiamo finito di girare l'anno scorso sarebbe preoccupante sarebbe preoccupante sarebbe ben preoccupante se fossi ancora nella parte no sei rientrato nella parte attenzione preoccupante amici gay all'ascolto non è una cosa brutta però è una cosa che dovrebbe analizzare no sarebbe preoccupante per un attore dopo un anno rimanere bravo avere ancora addosso il personaggio bravo avere addosso il personaggio e stavi dicendo si sono incontrati in ospedale tutti e due avevano un esamino da fare che li preoccupava diciamo quegli esami di routine che si fanno dopo i 45 tipo quella roba lì un po' polipetti come dice chiamano do polipetti do polipetti do polipetti ognuno dei due ha incontrato nell'altro qualcuno che della comprensione sì della comprensione mi fa impazzire non so se magari l'ho notato io e non c'entra però nella locandina che ho davanti cioè ben ti voglio per fare più contrasto o la sensazione con quello che succede nel film gli avete messo un baffo che è molto macio sì è fatto apposta c'è una storia di questo baffo e sentiamola mi arriva una telefonata a un certo punto della preparazione del film Simone potresti passare a prendere un caffettino che c'è una sorpresa sì apro la porta e si presenta con questo baffone meraviglioso un po' anni 80 tu hai deciso di dare un po' Giorgio Morode perfetto perfetto perché io avevo appena visto la villa ho scelto la villa dove ambientare il film e quel baffo era esattamente quella morte sua quando l'attore propone qualcosa al regista dà di più anche Jasmine è venuta col baffo lo vedi dall'aggiù però è venuta anche oggi quel baffo qual è la croce qual è l'adilizia del film ripartiamo da qui ripartiamo da qui la croce sono il personaggio di Jasmine di Filippo che devono che devono un po' e anche di Fabrizio diciamo il film non ha cattivi veri e propri ma persone con un lato oscuro diciamo mentre la delizia è senza dubbio Alessandro Gasman che è il buono e il cuore pulsante all'interno del film ma lascerei la parola a questa ragazza qua accanto a me che per la prima volta che hai appena definito croce perché questi due portano la famiglia le rispettive famiglie in vacanza assieme e lì tentano di spiegare in qualche modo ho capito bene di annunciare questo amore ecco per chi avesse acceso girato adesso su di noi appunto Croce delizia racconta la storia di un amore inaspettato tra due uomini sposati che appunto devono annunciarlo nel corso di questa vacanza e tu appunto Jasmine fai la figlia la figlia di uno dei due come la vive? io sono la figlia di Tony famiglia Castelvecchio e come se la vive? banalizziamoli come degli snob intellettuali insomma un po' così mentre gli altri sono più cacciaroni e gli altri sono una famiglia più tradizionale di pescivengoli viene un po' ferie d'agosto che è il film di Verzi non l'abbiamo visto non c'entra niente in una villa al mare giuro non c'entra niente visto e quindi e quindi Penelope il mio personaggio reagirà anche lei in maniera scomposta abbastanza male a questa notizia ma non tanto in quanto omofoba perché invece quello è il ruolo del nostro amico Filippo Scicchitano figlio di Alessandro Gasman lui fa proprio il figlio del lui c'ha proprio un rifiuto una roba di carne non ce la fa e invece Penelope è un po' una di quelle adulte open minded no adulte mai cresciute in realtà quindi è una ragazza che ha quasi 40 anni questo ve lo dico così ma quindi per la prima volta una molto più grande di te per la prima volta fai una almeno di 15 anni più grande di te se volete fare un piccolo commento fatto fatto niente non riesce ad accettare semplicemente il fatto che suo padre possa amare qualcuno certo certo infatti ma alla fine scopriremo che magari i cacciaroni sono più capaci di accogliere la cosa che quelli di raccontare no potrebbe essere uno sviluppo narrativo interessante no non c'è un buonismo di fondo così scopriamo che sono meno diversi di quanto si possa pensare sicuramente però poi è un film adesso 30 secondi di serietà è un film sulla famiglia sui rapporti all'interno della famiglia chiaramente questa famiglia viene sconvolta da questa notizia e un po' ti dimentichi anche della storia d'amore omosessuale nel senso non è incentrato non è importante diventa più un rapporto ironico comico emotivamente anche forte diciamo c'è un bellissimo scontro tra loro due è un po' la ricerca dell'amore ma anche di essere amati qua la ragazza accanto a me sente di non essere amata da questo padre e si accorge che invece l'altro potrebbe amarla come papà non l'ha mai amata troppo? no si parla di sentimenti quindi è tutto no non è tutto un intruglio parliamo di emozioni di emozioni con uno sguardo molto ironico molto insomma è un film complesso ma molto divertente anche interessante raccontato così è più una commedia o ha più sfumature che fanno riflettere è un film che ha la doppia diciamo ha una doppia lettura c'è un approccio indubbiamente da commedia però avendo questo cast anche questo mi ha facilitato molto perché avere adesso non facciamo i complimenti a loro tanto in cuffia non serve ci diamo gli assenti come sei ad uso è stato facile è più facile è più facile è indubbiamente più facile lo ammetto però è anche più bello è anche più bello è anche più bello poi vedere Jasmine buffa assicuro che è divertente buffa buffa come? scusate buffa tipo fagliaccio buffa come? è buffotta è buffotta c'è delle scene buffotta è con questo se volete aggiungere anche qui è un piccolo però lui ti provoca un po' godano ti provoca sai l'antico detto ti disprezza vuol comprare senti prima c'è stato un momento con Fabrizio un po' surreale cioè io tentavo di convincerlo che avesse fatto molti film nella carriera addirittura più di 60 beh alla fine abbiamo appurato che sono 57 56 questo è il contatto questo è il contatto no 57 allora questo 57 questo non è ancora c'è un film lo so che è un po' marzulliana però proprio un film che lo vedi dici perché l'ho fatto sta cagata cioè ti è successo lo devi dire Fabrizio lo devi dire no Fabrizio sinceramente non ce l'ho perché l'hai rimosso probabilmente perché l'ho rimosso Fabrizio ci sono film che rimandi se te lo ricordate ma sentiti libero Fabrizio se vuoi anche fare dei riferimenti a noi no questo avete recitato insieme tante volte no no questa era la prima la prima volta però mi sono compenetrato nel suo problema perché l'ho avuto anch'io cioè cioè cosa essere stato considerato per tanti anni un attore solo drammatico drammaticissimo è vero? e invece e invece poi trovarsi in una commedia in un contesto dove poi si presume che chi guarda possa anche sorridere non è facile diciamo che si può provare disagio capisco capisco l'imbarazzo iniziale perché io non me la vedo imbarazzata la trinca è imbarazzata in un momento della vita mai i personaggi drammatici normalmente si recitano o comunque si fanno con la faccia con la faccia certo nella commedia si può usare anzi è consigliabile usare tutto il corpo questo è interessante è vero io infatti durante la lavorazione avevo questi due tutori legali che erano appunto Bentivoglio e Gasman che mi aiutavano a muovere proprio mi piace molto questa cosa cioè quindi l'attore drammatico sta più sulla faccia sulla mimica è difficile che nei film drammatici ti ritrovi un personaggio che fa tanti movimenti d'azione d'azione fisico Buster Keaton però spariglia tutte le carte perché stava solo sulla faccia e faceva ridere sì però non sono classificabili come film drammatici no 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 appunto lui invece era un comico che usava poco il corpo e molto la faccia però lui era unico diciamo grazie ragazzi di essere stati con noi in bocca al lupo per stasera ma andate a vederlo subito adesso alle tre cosa avete da fare amici all'ascolto ma voi l'avete già visto sì certo sì l'abbiamo già visto ok anche col pubblico l'abbiamo visto e il pubblico si diverte ah vediamo questa dritta croce e delizia grazie amici in bocca al lupo grazie a noi grazie a tutti